ecco qua la vostra mixer remix questa è la mia chitarra volevo deliziarvi non diciamo la parola giusta volevo come ha fatto il mio gatto oggi aiuto mi fa vibrare le vibrisse mi fanno troppo male è scappato solo che la porta era chiusa infilato sotto al letto a fare mia 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 insomma si è tutto lasciarla andare giusto per capire quanto deliziano i miei suoni che riproduco chiamiamo così i rumori che riproduco con questa chitarra va bene facciamo una piccola prova aspetta è una canzone di de andrè questa è un pezzettino piccolino giusto giusto ritornello se la riconoscete premio a chi la indovina poi premio è che non vi sono più niente insomma ecco premio a quello la è va bene proviamo è siete ancora lì o siete scappati tutti va bene scappato io come scappato il gatto adesso altrimenti mi tirate le maledizioni via web ciao buona serata a tutti quello qui che è tornato ancora arrabbiato è no no via 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 lascialo andare perché grazie a tutti